Io devo prendere appuntamento, uno o due la palla, sorpreso ne fu io. Gragnoli. Ciao Camillo. Priore capitano della lupa. Bella palla, eh? È un bel impegno, sì, impegno straordinario, ma ho avuto modo di dire più di una volta. Però si fa come si fa tutto, si cerca di fare il meglio che si può. Diciamo prima la storia di Gragnoli Lupaiolo. Chi è Gragnoli Lupaiolo? Me l'hanno già domandato, chi è Gragnoli Lupaiolo? È un lufaiolo che ci è sempre stato, da quando ero vicino a Sonaltamburo fino a in carichi di ancelliere Meseggi del Magi, poi ancilliere Olviviani, poi viario del Viviani, fino a qualche anno fa, insomma. Ecco, che capitano, che priore... Ora, Gragnoli, si sente più capitano o più priore della lupa? No, io sono il priore della lupa. Poi svolgo le funzioni del capitano e quindi devo fare anche il capitano, ma sono il priore. Il priore. Come ora, come si muove Gragnoli, capitano, in questa situazione? C'è una contrata che è da ricompattare, no? Lo diciamo, è lo giusto. Sì, forse è un buon modo di ricompattarsi il fatto di essere consapevoli che questo è un momento di, chiamiamolo, di difficoltà, come è stata, insomma. E che quindi c'è bisogno di stare ancora più uniti, perché se si vuole uscire dalle difficoltà, di certo, il miglior modo è quello di serrare le fila. Beh, bisogna fare la forza. Esatto. Ma posso domandare? È una ricetta mia, insomma. Ora, come nasce una situazione così, che tra l'altro era in una situazione buona, politicamente, parlando per gli scamenti? Nasce dal digiuno abbinato ai passaggi generazionali e quindi da situazioni di difficile gestione. Perché il passaggio generazionale è inevitabilmente un momento difficoltoso, quando i più vecchi devono cedere la mano ai più giovani. Se questo avviene senza che sia arrivata la vittoria, la cosa è ancora più complicata, perché non c'è nessuno che è in grado di insegnare a giovani e i giovani non hanno nessuno che possano avere e riconoscere come il loro maestro, perché ovviamente è uno che è stato sconfitto dalla piazza e non è un vincente. Quindi, in questa situazione, di certo, si travalla. Beh, mi ha prestato a bocca al lupo alla lupa per questa cosa. Io già lo dico da te. E io da questo capitano, dai, i mangini di questo capitano... I mangini di questo capitano sono i vicari, perché la contrada ha scelto di andare al palio con la veste, diciamo, amministrativa della contrada, con la parte amministrativa della contrada e quindi con il priore con il seggio e quindi il priore non può che avvalersi dei massimi suoi fiduciari, che sono i vicari. E quindi i vicari faranno i tenenti. E sono, diciamolo, tanto lo sanno, ma diciamolo lo stesso, che sono i due vicari? Sono Marco Giannini e Luca Petrangeli. Marco Giannini era capitano nel periodo in cui io ero vicario e Luca Petrangeli era vicario insieme a me nello stesso seggio. Quindi ci conosciamo da tutta la vita. Marco entrava in piazza prima che entrassi io. Quindi è un legame... Bello, 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 un legame d'amicizia. È un legame, sì, un legame viene da sempre. Sono persone che sono state nella lupa, sono resciute nella lupa insieme a me. Non c'è tanta distanza di età, insomma, tra me e loro. Ora, Giannini come capitano è stato, ha fatto un lavoro contro. Cioè, creò una sola situazione con Files e senza nulla da chiedere e nulla da dovere. Vabbè, questo fa parte del passato. Direi che non incide nel futuro. Marco stavo scelto che facesse il vicario da me e gli ho chiesto espressamente senza pensare al fatto che dovesse poi avere questo ruolo, diciamo, extra. La sua è un'esperienza che ovviamente dentro allo staff è utile e preziosa perché i passaggi che ci sono da fare sono passaggi che per me e per l'altro componente dello staff, cioè il vicario Luca, Petrangeli, non si conoscono. Io non sono mai stato, è dinamico, quindi i momenti già vissuti, averci uno che l'ha già vissuti e che ti prepara un po', dice ora guarda, si deve fare, succede questo oppure succede quest'altro e non abbiamo tanto tempo perché avere uno che in anticipo ti può dire quello che verosimilmente ci aspetta è un vantaggio. Poi il capitano è il priore, quindi le scelte devo fare io. Lui ha scelto durante il suo mandato la linea del fattivo di Contrada perché in quel momento la Contrada chiedeva che fosse fatto così. Il suo mandato è stato rinnovato sostanzialmente per acclamazione perché quando il Fais nei due pali del 2009, se non sbaglio, chiuse sia a luglio e agosto l'istrice con Gigi fu un momento di esaltante. Esatto, esatto. Diciamo, eppure non vincendo ovviamente, quindi non essendo gioiosi per la vittoria fu comunque un momento di orgoglio, di orgoglio, un momento importante. Infatti, se li vedi Fais a Siena e... Vabbè, subito c'è subito... Eh, ovvio, fai uno più uno e uno ci prova subito a fare, no? Io gli ho fatto un'ultima di dire che fai, che vuol dire questa attraversata, Fais? Sì, no, no, niente. Mui è venuto, credo, per amicizia con un altro Fantino. Sì, però dall'altro è un bravissimo ragazzo. Secondo me c'era anche dei mezzi. È un bravissimo ragazzo. A volte, forse, non l'hai capito bene... Forse per il palio è anche un po' troppo buono. Eh, ci voleva... Va bene. E ora hanno un po' messi poi. Bronto lo dice, lo sai, lo legge e lo dice Bronto? Sì, sì, l'ho sentito e dice Bronto, l'ho sentito. Vabbè, che deve di Bronto? Bronto dice quello che diamo tutti cercando di indovinare, insomma. Siamo arrivati da poco, ci stiamo guardando intorno. Ci piacciono tanti Fantini, ci sono delle situazioni che ci interessano, situazioni che sappiamo non possiamo percorrere, qualcuna non la vogliamo percorrere e quindi poi faremo le nostre scelte. Insomma, noi siamo ad ampio raggio, come si dice. Stiamo guardando, ci stiamo guardando intorno con attenzione. Perché sembrava che fosse un discorso che la lupa avessero trovato un fantino già, su cui basare certe cose, anche se naturalmente non è vero. Queste sono le acre che ci sono a Siena e che fanno parte del palio e forse anche la parte divertente del palio. Se ti riferisci a Gingillo, come è successo e tutti ci dessero Gingillo su 10 cavalli, Gingillo è un fantino che, come gli altri, la lupa guarda con attenzione. Perché è un fantino sicuramente motivato, perché ha bisogno anche di un riscatto. Visti i pali difficili, brutti, da cui è uscito recentemente, dopo l'incidente si deve confermare, lui lo sa, quindi è un fantino che la lupa guarda perché. Potrebbe essere un'ipotesi di certo, ma non solo lui, anche gli altri. Anche Ricerzo. Anche Ricerzo, è un fantino che piace a tanti perché ha vinto, ha vinto su un cavallo difficilissimo, ha fatto un palio straordinario, è un ragazzo che con i cavalli ci ragiona, dice molto più di tanti altri, anche e soprattutto con soggetti impegnativi, quindi di sicuro anche riceve. Perché uno ragiona, no? Perché io mi scrivo di un mio e mi sono chiacchierate. Uno ragiona, dice, una situazione, così arriva all'ultimo momento, è chiaro che... Prende perché resta. No, prende perché resta, non è quello. È che certe cose vengono illuse anche dall'avversario, no? Inevitabilmente, approfittando della situazione. Noi cerchiamo di mantenere... Noi siamo in una situazione dove non siamo di fatto uno staff palio. Noi abbiamo il compito di portare la contrada al palio. Quindi abbiamo un approccio amministrativo sostanzialmente, cioè vogliamo mantenere il patrimonio della contrada. Quindi i fantini hanno vestito il giubbetto della contrada, hanno un legame con la contrada e noi abbiamo il compito di mantenere questo legame. Mi riferisco a Jonathan, ovviamente. E' un fantino con il quale abbiamo un rapporto particolare. Alberto è un altro fantino che ha vestito il giubbetto della lupa. E' un fantino che anche lui è considerato un fantino vicino alla contrada per il passato che ha rappresentato la contrada. Gingillo non ha mai vestito il giubbetto della lupa, ma comunque è un fantino che attira l'attenzione che potrebbe essere la volta buona, chi lo sa. E quel volpone che, perché lo piangio è nel senso buono, di vari, che ruolo ha insieme alla lupa? Andrea è un altro fantino che ha vestito il giubbetto della lupa e il fantino con cui la lupa ha un legame forte e è squalificato, per cui Andrea purtroppo per noi non è a cavallo. E il rapporto olistice ora com'è? Io ho conosciuto il capitano dell'Istice, è una persona assolutamente gradevole e rispettabile e con cui ho condiviso da lontano i propositi, nel senso che senza dirsi nulla negli articoli delle interviste abbiamo detto le stesse cose. so che è molto attento anche lui a non esasperare gli animi e la cosa mi fa oltremodo piacere, perché anche io ho questo tipo di approccio all'avversaria, perché per prima cosa ci dobbiamo rispettare e mantenere tutto entro i limiti di questa festa senza esacerbare, senza andare oltre, perché poi diventa tutto brutto e anche pericoloso. Anche pericoloso, sì. Dovete rimanere certe cose. Bene, allora vediamo un po'. Allora se l'aspettavo sì, Fabio, perché andare a giocare con Pantino oggi è dura. Sì, diciamo che è un'avventura, come mi ha detto un Pantino famoso. Allora mi ha detto... Scusami. Prego, prego. È un'avventura, è un'avventura nuova. Poi si tireranno le somme alla fine, insomma. Per ora si cerca di prendere un po' le misure. Ha un vantaggio, perché di solito il capitano viene controllato dal priore, no? Quindi... Io mi controllo da solo. Questo controllo come avviene ora? Avviene con la fiducia che ha dato la Contrada. La Contrada ha dato questo segnale di estrema fiducia, che ovviamente è una grande soddisfazione, ma è anche un grande peso, e si porta l'onore e l'onere. Si portano entrambi, insomma. Quindi si cerca di fare il meglio che si può. Allora, avvocato, quando... perché mi piace anche l'aspetto diverso. Ma quando... Allora... E' letto... Priore. Si. Con la consapevolezza quasi assoluta che sarebbe diventato anche in presidimenti abitanti. Si, verosimile. 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 Ottobre. Ho detto quello che ho detto a ottobre, cioè che era importante fare la Contrada. Si, credo si, va bene. Quello è ovvio una cosa. No, nel senso di... La persona... La persona... La persona... La persona è... Che ha detto... Oddio! Ora... Si. La sensazione... Di gioia. La soddisfazione, ma proprio la sensazione per il momento. La sensazione... La sensazione è quando... Io di fronte alle difficoltà normalmente la reazione è quella di... Si. Però di... Di tenere ancora più salda la presa, insomma. Ecco. Quindi di... Di fare ancora più forza. Quindi di... Di stringere ancora di più i denti e di andare avanti. Questa è la sensazione. È chiaro. Uno lo fa con la coscienza e con la preoccupazione del caso. Se non sarei... Un sciocco. Però... Se... Dietro a questo c'è... L'idea che... Questo possa essere per la contrada... Più che uno svantaggio... Un vantaggio. Perché appunto... Potrebbe essere il mezzo di ricompattarsi. Quindi di... Uscire da questo momento di difficoltà. Perché la contrada... Si stringe. Quindi... Invece di perdersi nelle contrapposizioni. Ci hanno... Purtroppo caratterizzato questo inverno. Allora... La spinta... Uno la sente più forte. E quindi... Se... Ovviamente tutti... Divo tutti... Aiutano... Si va avanti. Si va avanti anche volentieri. E invece Gabriele ha pensato in quel momento? Gabriele ha pensato... Chi l'avrebbe mai detto? Nel senso... È un ambiente... È un ambiente... Quello del palio... Che io ho sempre visto accanto... Stando dalla parte... Della sedia... E non dentro lo staffio... Quindi anzi... Qualche volta mi stava anche chiesto... Ma non... Ho sempre detto... No grazie... Perché... Ritenevo di... Non essere... Che non fosse... Insomma... Una parte... Ci vede più priori... Capitano... Si... Diciamo... La storia... Personale... È più dentro a quel binario... Che sull'altro... Però poi... Sono un contrattaiolo... Alla fine... Non sono arrivato... La piena... Un pochino... Non li saprebbe orientare... Insomma... E allora... Il fattino della lupa... È... Il fattino della lupa... È uno che deve... Non ha il giubbetto... Che devi usare... Dov'è... Ecco... Ma... E questa cosa dei avalli... Che ne pensate? Che probabilmente... Cioè... Probabilmente... Uno va... Per sentito dire... Per certi risultamenti... No... Che è probabile... Non ci siano... I avalli... Cosiddetti bomboloni... No... Per un insieme di circostanze... E che ne pensate... Di cavalli che ha visto... Le corse... Sì... Perché anche questa è... Corsa nuova... Corsa nuova... Sì... Che impressioni... Le impressioni... Sì... Lo sento dire anch'io... Che qualche... Un paio di cavalli... Non ci saranno... Quindi... Diciamo... Non mi rispicco... Probabilmente... Il rischio è che anche altri... Li vadano dietro... Li vadano dietro... Perché poi... Si faccia al palio... Con cavalli... Di seconda fascia... Non mi piace... Io metto sempre... Non mi piace l'idea... Non mi piace l'idea... Io so dell'idea... Più cavalli buoni ci so... Più è facile... E mi tocchino... Visto... Alla lupa... Li so sempre toccare voi... Quindi la politica... Del livellamento... Verso il basso... Non mi piace... Non mi piace... Non mi piace... Che ha più possibilità... A quel momento lì... Non mi piace... Il livellamento verso il basso... In generale... Non mi piace... Mi piace saltare... Quando esco la piazza... Ci sono... Secondo me ci sono lo stesso... Si... Magari qualcuno... Qualche nuovo soggetto... Qualcosa... Si vede ogni tanto... Poi... Dipende da quanto... Vogliamo far vedere... E poi lo scondo... E' certo... Fantini... Pinocchi... Comi abitani... Comi abitani... E' un giochino... E' un giochino... Fattosi... Si... Si... Diceva... Robertini... C'era un giochino... Ma giochino niente... Visto... Bene... Allora... E' un sisbottore... Non c'è... Si sbottore... Allora... Allora... Abbiamo due... Se vuoi... Di qualche bugia... No... Due tipi di fantini... Abbiamo... Il fantino... Diciamo... Col cavallo... Di prima fascia... E' il fantino... Per la seconda fascia... Possiamo dire... La lupa... Questa... Questa fase... Lo cercherà... E... Lavorerà... Per trovarlo... E spera... Che ci siano cavalli... Di prima fascia... In modo... Che arrivi anche... Un fantino... Quindi... Questa è l'idea... Questa è l'idea... Anche perché... I fantini... Ci piacciono... Sono fantini... Di prima fascia... I fantini... Fortunatamente... Un paio... Si sono anche montati... Qualcuno... Non si è montato... Ma si potrebbe montare... Quindi... L'ultima cosa... Quando è stato eletto... Che ti ha detto... A montare le ore... Forza... E grazie... Bene... E grazie... Anche... Da parte mia... Per questa... Chiacchierata... In bocca al lupo... Per tutto... Al capitano... E al priore... Della lupa... Grazie infiniti... Grazie mille... Grazie... Grazie...